21 appuntamenti da settembre ad aprile al Petruzzelli Piccini e all'Auditorium Nino Rota. In cartellone non solo i virtuosi della classica e maestri concertisti di fama internazionale, ma anche icone del pop come Tony Adley, Enrico Ruggeri e Amy Stewart. Al via l'82esima stagione della Camerata Musicale Barese, presentata nella Sala Giunta del Comune di Bari. Abbiamo ospiti internazionali di grandissimo rilievo nella musica classica, nell'ambito del pop, del rock, della danza. Cito dei nomi grandissimi, Ghidon Kramer, Richard Galliano, Tony Adley dell'Espandao Ballet, Enrico Ruggeri, Serena Utieri, il duo delle sorelle Labec, Sergei Krilov, Mario Brunello. C'è tantissimo, l'offerta è molto variegata ed è per tutti, è per i giovani e per coloro che amano la danza, con due grandissimi appuntamenti, con Raffaele Paganini, un balletto sulla musica dei Pink Floyd e una serata di flamenco con il re del flamenco, Sergio Bernal. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Come da tradizione, la Camerata Musicale Barese propone un'ampia offerta culturale per la città di Bari, di respiro internazionale e rivolta anche ai più giovani, grazie a speciali scontistiche. L'hanno sempre fatto e per questo io ringrazio il management della Camerata, quest'anno diretto dalla presidenza di Gianna Fratta e che appunto ha continuato il percorso importante di tanti anni della Camerata, ma che in qualche modo vedono anche un'evoluzione nella trasversalità della programmazione e quindi rivolgendosi anche alle nuove generazioni, sia dal punto di vista del pubblico ma anche dell'offerta stessa di tanti artisti più giovani che si affacciano attraverso la danza, attraverso la musica, questa importante occasione per il pubblico ma anche per i tanti artisti.